Musica adesso con il concerto di Steve Hackett, ex chitarrista dei Genesis. Il servizio. Questo signore è Steve Hackett, il mitico, questa volta l'aggettivo non è sprecato, chitarrista dei Genesis, uno dei gruppi storici di quel progressive rock che ha dominato la scena negli anni 70. E questo brano è tratto dal concerto di Vicenza, tutto esaurito ovviamente, ma perché tanta attesa? Ce l'ha spiegato il giornalista Mario Gianmetti. Lui rivisita il periodo glorioso dei Genesis, quello di cui lui è stato co-protagonista, suonando un repertorio rigorosamente Genesis, facendo degli arrangiamenti molto simili agli originali per sua scelta, perché ha detto che il pubblico doveva riuscire a percepire quelle che erano le emozioni di quella musica così immortale che risale ormai a 40 anni fa e passa. Per gli appassionati del genere, sono davvero tanti, il prossimo appuntamento sarà con il pianista canadese David Myers, che ha riscritto in modo originalissimo e solo per pianoforte i principali brani dei Genesis. E l'appuntamento sarà all'Auditorium San Gaetano di Padova il 27 giugno, organizzato dall'Associazione Culturale Duke.